Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Una fontana che disseta. Spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. La parola del Signore è luceviva ai nostri occhi, quindi ci offre sempre quel candore, quello splendore, che è ricco di vita e dei suoi seguiti, perché se leggeremo la Bibbia e capiremo veramente come agire, ci sentiremo realizzati. La parola del Signore è una fontana che disseta, ci rinnova le coscienze, ci porta sulla buona strada e ci fa stare bene. È veramente la strada maestra da seguire. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Una fontana che disseta. La parola del Signore, luceviva ai nostri occhi, ci offre da sempre lo splendore della vita e dei suoi seguiti. Una fontana che disseta e che irrura le nostre coscienze, i nostri cuori rianima e rende felice ogni credente. La parola vera illumina e ci darà sempre luce, ci donerà la strada vera, quella ricca di tante speranze. La saggezza è maestra e ci potrà insegnare, è una fontana di sapienza e ci darà luce e splendore. Grazie, condividete a tutti.